In uno dei suoi salmi Davide dice Io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà sempre nella mia bocca. È un passo questo della Bibbia che molte volte abbiamo fatto nostro. Io personalmente l'ho letto spesso nell'assemblea, l'ho letto spesso nella mia lettura quotidiana e ci ho scritto anche una poesia su questo versetto della Bibbia. È un versetto della Bibbia molto molto importante perché diciamo che in qualche modo ci impegna nei confronti di Dio a benedire il suo nome e a lodarlo in ogni tempo. E quando si parla di ogni tempo ci si riferisce anche ai tempi futuri che possono riservare delle problematiche, delle prove, delle difficoltà. Quindi dire Io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà sempre nella mia bocca, significa dire Signore anche se il domani comporterà delle prove, delle difficoltà, delle situazioni di cui avrei fatto volentieri a meno. Io comunque benedirò il tuo nome, comunque ti loderò. E questo è possibile solo se noi ci fidiamo del Signore. Quindi questo passo che Davide ci trasmette attraverso uno dei suoi salmi è una manifestazione di fiducia. Significa dire Signore io mi fido di Te. Quindi anche se le cose in futuro dovessero andare in moto diverso dai miei piani, dai miei progetti, anche se in futuro, anche se il futuro dovesse riservarmi delle prove, delle difficoltà, comunque io mi fido di Te. E siccome mi fido di Te, benedirò il Tuo nome. Benedire significa dire bene, parlare bene. Quindi io dirò bene di Te. E ti loderò. E' certo che bisogna però dire un'altra verità. Che quando le cose ci vanno abbastanza bene, non ci sono difficoltà, problemi, lodare il Signore è una cosa che viene quasi spontanea dal nostro cuore. Quando invece le cose non vanno molto bene, ci sono delle prove, delle difficoltà, delle cose che ci angosciano, delle afflizioni in genere, dei problemi familiari, ognuno può aggiungere quello che vuole. Ecco, in questi casi qua dobbiamo essere onesti. E' più difficile lodare il Signore. Non viene proprio così spontaneo. Siamo onesti. Ed ecco perché il Signore ci invita ad offrire sacrifici di lode. Il sacrificio della lode, come ho scritto in un mio post a tempo fa, è anch'esso manifestazione di fiducia. Signore, sto vivendo un momento difficile, un momento pieno di incertezze, un momento di difficoltà familiare, con i figli, con la moglie, con il marito, un momento di difficoltà economica, un momento di difficoltà lavorativa. Ma comunque, Signore, io ti lodo. Io ti offro la mia lode perché sono convinto che questa situazione difficile è sotto il tuo controllo. Sono convinto che nulla è sfuggito al tuo occhio benigno. Sono convinto che tu hai cura di me. Avrai cura di me. Per questo, Signore, ti lodo e ti ringrazio. Da un'altra parte nella scrittura il Signore ci invita a offrire sacrifici di ringraziamento. Allora anche qui mi sono fatto una domanda, ma come il ringraziamento è un sacrificio? Di solito ringraziamo spontaneamente quando riceviamo qualcosa, riceviamo qualcosa e in modo spontaneo ringraziamo. Non è un sacrificio. È qualcosa che ci viene dal cuore, ringraziare quando riceviamo qualcosa. Ma il ringraziamento diventa un sacrificio quando appunto dobbiamo ringraziare per cose che non abbiamo ancora ricevuto o ringraziare il Signore addirittura per i momenti difficili che sta permettendo nella nostra vita. È veramente sovrannaturale questo perché se stiamo passando una prova, un momento di difficoltà, un'afflizione, una malattia, aggiungete quello che volete. Comunque tutto quello che diciamo umanamente dispiace, ecco, lì non è facile ringraziare il Signore e anche lì il Signore ci invita a offrire un sacrificio di ringraziamento e anche questo sacrificio di ringraziamento alla fine sapete che cos'è? È espressione di fiducia. Signore, ti ringrazio per questo momento difficile. So che se lo stai permettendo è per il mio bene, è per insegnarmi qualcosa, è per istruirmi, è per liberarmi. E allora, fratelli e sorelle, ricordiamoci sempre di avere la giusta conoscenza dei passi biblici che leggiamo perché quando noi facciamo nostri dei passi biblici come il verso di Davide che dice io benedirò il Signore in ogni tempo la sua loda e sarà sempre nella mia bocca, ecco, ricordiamo che quando citiamo questi passi, quando li scriviamo su Facebook, quando li diciamo, stiamo dicendo comunque andranno le cose in futuro io mi fiderò del Signore e questa fiducia in Lui mi porterà a benedire il Suo nome nonostante la situazione difficile. Questa fiducia in Lui mi porterà a lodare il Suo nome nonostante la situazione difficile. E la fiducia, tutto gira sulla fede ed è per questo che sta scritto che senza fede è impossibile piacere a Dio. È tutto basato sulla nostra fede, anche il sacrificio di ringraziamento. nasce da un cuore che si fida di Dio. Non comprendo, Signore. Non comprendo tutto questo ma mi fido di Te. Ecco, quindi e concludiamo quando facciamo nostri dei passi ricordiamoci che stiamo prendendo un impegno perché il io benedirò il Signore in ogni tempo la sua lode sarà sempre nella mia bocca. Notate che Davide usa dei verbi al futuro io benedirò il Signore in ogni tempo qualcosa che farò in futuro la sua lode sarà notate sarà sempre nella mia bocca qualcosa che mi impegno a fare nel futuro. Quindi leggendo questi passi facendoli nostri noi stiamo prendendo un impegno un impegno che riusciamo poi a portare avanti solo se ci fidiamo del Signore e questi passi che Davide ci trasmette attraverso il suo salmo che dovrebbe essere se ricordo bene il 34 praticamente manifestano tutta la fiducia che Davide aveva nel Signore. Ecco che possa essere anche questo il nostro atteggiamento quello di desiderare di benedire il Signore in ogni tempo di lodarlo del continuo la sua lode sarà sempre nella mia bocca qualcosa che faremo in futuro e fidiamoci del Signore oggi desidero trasmettervi questo incoraggiamento che prima di tutto faccio mio e per me stesso e il Signore sa i motivi però non ci scoraggiamo non ci scoraggiamo come come mi ricordava una sorella ieri la nostra causa è dinanzi al Signore qualsiasi cosa stiamo affrontando qualsiasi problema qualsiasi difficoltà ecco tutto è sotto il controllo del Signore e ricordiamo anche questo che le prove che stiamo passando oggi le lacrime che stiamo versando oggi le difficoltà che stiamo vivendo oggi saranno la corona le corone che indosseremo nel regno millenario e che indosseremo per l'eternità quindi accettiamo anche le prove che il Signore permette nella nostra vita perché come dice Giacomo beato l'uomo che sopporta la prova perché dopo averla sopportata ecco riceverà la corona della vita il Signore premierà la nostra fedeltà premierà la nostra costanza premierà la nostra fiducia in Lui fidiamoci del Signore concludiamo con le parole di Davide io benedirò il Signore in ogni tempo la sua lode sarà sempre nella mia bocca così sia per ciascuno di noi